potere pelato buonasera a tutti sono tornato di nuovo costantemente ritorno in live oggi e come state ho un po' di sonno credo sia una mancanza di ossigeno dovrei aprire la finestra ma fa caldo fuori la pila dietro no in realtà è perchè sono sopra i numeri di delle uscite di settimana e i fumetti di coso di di Ken sono tutti lì perchè erano sul letto li ho messi lì un attimo ma non sono tutta roba da leggere è solo che non ho un appoggio ulteriore in camera perchè ho due piani ho il piano di questo che c'è la roba e poi c'è il piano qua e lui c'è il portatile quindi o li metto sul letto o li metto sulle librerie infatti è un po' così non è una camera con molti spazi dovrei mettere un tavolino non saprei dove metterlo già non si cammina ma va beh l'elicottero si schianta a reggio no molti lo stanno cercando l'elicottero oh va beh no hanno chiuso il campo rom in via bonfaldini a milano e ora dove saranno meno live più letture no non lo voglio sono stanco ma poi ho un problema io non riesco a leggere sul letto mi viene sonno cioè mi metto lì a leggere leggo una roba e poi crollo e mi viene dormo per ore infatti c'ho stanco e non lo so in realtà volevo capire io ho visto Emma tutto emozionato per il Comic Con no per il sì per il Comic Con San Diego ma ci sono delle news da qualche parte a me viene sonno sul letto dopo un po' e questo è il problema mi spengo ma non avevamo 109 sub un attimo fa che mortame le sub io odio le sub di Twitch perché sono un incubo devo togliere la cosa canali broadcast cosa cazzo sono i canali broadcast degli editori canali broadcast degli editori che cazzo sono i canali broadcast degli editori adesso? è un po' improbabile andare al San Diego Comic Con canali telegram ma a me viene proprio sonno non mi viene che mi fa male il collo con 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 Samuele, potresti per favore risponderti da solo che se no ti banno? Ora, accendilo ogni tanto il cervello quando scrive io ti prego lo sai che il ban è sempre dietro di te ma porca puttana mi conosci secondo te cerco News Cinematic Universe oltretutto facciamolo di nuovo questo discorso per l'ennesima volta voi vi rendete conto di quanto siano inutili le notizie delle robe del Marvel Cinematic Universe? Ve ne rendete conto, sì che ogni volta dicono tutto il contrario di tutto e poi niente di quello che dicono diventa reale? no no ma non parlo di... io sto dicendo raga sono stronzate cioè sono tutte cazzate è inutile seguirle cioè è una roba e a me fa morire da ridere il fatto che la gente sia così cretina che ancora ci sta dietro a questo tipo di notizie cioè guardate il fantastico film di Blade ma voi ve lo ricordate quando è uscito Eterni con la scena dopo i titoli che abbiamo avuto lo spo... lo spoiler che ci diceva la voce è la voce di Blade il film non l'hanno più fatto cioè magari lo fanno ma sono cinque anni tipo cioè ma che cosa vuol dire stanno avendo problemi a scriverlo Stone Angel? cioè non pigliamoci per il culo cioè non pigliamoci per il culo stanno avendo problemi a scriverlo stanno avendo problemi che non lo vogliono fare devi fare il film di Blade non stai scrivendo la terza guerra cioè la guerra ai pace è che purtroppo il mercato cinematografico di questo tipo vive di rimbalzi vive di hype e quindi fanno le... annunciano... ormai annunciano le cose per vedere la reazione del pubblico sì ma Stone Angel capisci che è una minchiata cioè anche perché per carità se sei l'attore e anche non sei il produttore sei uno dei produttori in teoria eh a cui devo avere una ciglia in un occhio mi dà fastidio un vampiro che uccide mostri grande sì cioè nel senso è Blade cioè che cazzo ne sono dobbiamo riprendere Wesley Snime andiamo a Fanculo l'attore produttore riprendiamo Wesley e gli facciamo fare il quarto film di Blade con tempesta che diventa vampira cos'è una storia di people of color perché l'attore è un pluripremiante non so nemmeno Stone Angel non so nemmeno che cosa hai detto non so cosa siano i Soscar e non so cosa sia una storia di people of color cioè devono fare un film sui neri con Blade Blacula non so cioè puoi farli i vampiri di colore chi se ne frega ma ah no pensavo fosse una qualche strana cosa vera i Soscar magari erano gli Oscar delle minoranze etniche maltrattate che cazzo ne so gli americani sono strani Blade come metafora dei neri ma no è nero non è una metafora scusatemi i mutanti possono essere una metafora dei neri o degli ebrei o delle comunque delle categorie maltrattate ma non lo so ma cazzo cazzo stiamo alla ricerca di news Blade film come metafora quindi i vampiri sono i neri maltrattati no i vampiri gli umani sono i neri maltrattati da una razza più forte e crudele che sono i bianchi e che sono i vampiri in realtà e Blade è sia mortale che immortale quindi è un misto e dimostrerà che si può convivere però è molto complicato spiegarla questa cosa vabbè dai se volete vuoi un dissing apro l'instagram di 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 buonanotte apro l'instagram di 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 Ema se vuoi però non è a casa quindi avrà fatto solo dei reel in cui fare le stesse cose per delle ore DC Comics al Comic Con di San Diego presenta l'Absolute Universe risposta va bene guardiamo facciamo una reaction a questo reel di Capcomics e in realtà trattiamolo Absolute Universe la sua risposta al recente Ultimate Universe della Casa delle Dei per prima cosa ci sarà un albo chiamato DC All-In Special un one-shot ma si sapevano già prima del comico queste cose questo nuovo universo narrativo ecco quanto annunciato durante il panel partiamo con Absolute Batman scritto da Scott Snyder e disegnato da Nick Dragotta poi abbiamo Absolute Wonder Woman scritto da Kelly Thompson poi ecco i cazzoli sottotitoli che fastidio abbiamo Absolute Superman scritto da Jason Aaron e disegnato da Rafa Sandoval e infine Absolute Flash scritto da Jeff Lemire e disegnato da Nick Robles in America ad ottobre 2024 da noi dovremo attendere diversi mesi ipotizzo io primi mesi del 2025 davvero contento di questo nuovo rilancio editoriale uno starting point adatto a tutte le nuove tipologie di lettori elettrici perfetto per questo momento storico mi piace come ha detto tutto sbagliato Emma perché non è il rilancio editoriale non è l'Absolute Universe è all in il rilancio editoriale e non ci saranno e queste sono le testate di Absolute Universe ma non sono le testate regolari normali che restano anche perché Batman non lo chiudono ovviamente perché non sono mica scemi Marco Aquila Carve questi sono i tipi di messaggi che dopo un po' mi irritano e lo scroto però ok però fa che gara il design di Batman va bene ma sono va bene Nick Dragotta ha questo stile molto particolare vediamo l'Auli nel senso che cioè lo vedi lo vedi cazzo lo vedi dalla copertina che sono all in sono entrambe le cose però veramente scusa hanno detto le cose che si sapevano già hanno annunciato i personaggi oddio ma che brutta aspetta ma non ha il mantello e ha delle ali fruste che schifo cioè lo stile di Dragotta mi piace il design un po' meno effettivamente e che cos'è sta roba vibes anni 90 io non ce le vedo però cosa sono ste cose vabbè wonder woman ok questo è superman che corre nei campi di grano che sembra un divano vabbè non è più criptoniano ma si risveglia terricolano vabbè bello superman però farei notare che non è un rilancio l'universo absolute è un linee rilancio e no le mir su flash non mi ispira guardiamo la nuova rubrica no mi ha chiesto voleva a sfufu voleva dei dissing e quindi glielo ho guardati qua se vuoi se vuoi c'è questo però Emma che cammina nell'acqua felice perché ha già visto il film ti dirò io l'ho visto alle dieci e mezza del mattino senza andare all'anteprima di mezzanotte non è che ho beccato degli spoiler dalle nove alle dieci e mezza perché Lemire è molto più bravo nelle cose sue che nelle robe genericamente che non ha inventato lui poi per carità qui sarà molto libero sì però non lo so volete che contiamo i video pov di di Emma pov 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 qui non ho scritto pov 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 no infatti è completamente sbagliato non è colpa sua è il colpa del meme attuale il meme attuale di point of view non ha senso è una roba che è tutta sbagliata e ma perché pov è esattamente quello Siramus è quello delle cose da sporcaccioni il pov di questa roba dovrebbe essere dal tuo punto di vista è tutto sbagliato è una roba che ti fa che mi fa venire la cacarella dalla bocca sboccare merda sì perché pov vuol dire esattamente che sei tu a guardare e lo sanno benissimo gli amici del porno ma è così tutti i meme di pov sono sbagliati esattamente dal tuo punto di vista cioè se il pov è pov mi piacciono tanto i film marvel e sono in mezzo a non è io non puoi vedere me sono io che guardo cazzo è tutto sbagliato sì ma non ha senso dobbiamo provare più odio per il genere umano odiamo il genere umano ciao Gemini come va odi anche tu il genere umano io sì poi non so mi sa che non ci sono news vabbè oggi volta mi ha già spoilerato le uscite di jpop grazie volta ragazzi ma perché è così difficile per voi che io vi dico tre cose da non fare e non riuscite a farle ora parlo in generale ovviamente cioè una delle cose che ho sempre detto ragazzi non mi postate le uscite a fumetti della settimana prossima perché mi dà fastidio che me le postate sul canale o devi fare una domanda mi devi postare le uscite ma porca puttana poi io gli voglio bene a volta eh perché è gentile è caruccio ma porca troia non ce la fate e la motivazione è sempre quella è che ormai si vive in questa roba per cui e la domanda era ma next dimension perché ci sono le due copertine c'era la necessità di postare tutte le uscite di sal di jpop per chiedermi perché ci sono le due copertine diverse che ci sono da sempre di next dimension non serviva postare l'immagine eppure ciao picpac ciao cheval benvenuti ceval non sei più il mio modo preferito perché guidi mentre moderi bravo Giovanno questa è l'altra cosa che mi irrita terribilmente è la gente che mi dice calma che ci posso fare eh non so non guidare smetti di guidare aspettate questa sicuramente la vedremo anche domani da Kirio però vacche news l'anime celebration variant di call of the night e the the neverland cat prize non mi sembra molto anime però vabbè sterminare di hg sterminare exterminate anzi no ex 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 che bel episodio ma perché vuoi delle uova exterminate vabbè era molto bello povera rori comunque voglio andare in nova comics quanto ho goduto in questo momento quando uno sotto gli ha scritto ah ma scusate fate la fiera in un posto dove si parla italiano come minimo scrivete le info in italiano no che vada che dirlo agli svizzeri già gli girano i coglioni secondo me no rocket già se gli dici sta roba agli svizzeri gli girano le palle poi non ho risposto molto professionale comprendiamo ma dato che molti ospiti e visitatori parlano altre lingue ed essendo un festival perciò internazionale per questa prima edizione abbiamo congiuntato le nostre risorse su interpreti e traduttori simultanei per far sentire tutti a proprio agio durante il festival dove ovviamente si parlerà in italiano nelle prossime edizioni amplieremo sicuramente il nostro staff di comunicazione per rendere tutti i contenuti social almeno in italiano e in inglese il che mi fa molto ridere perché vuol dire che vi appoggiate a una società inglese per fare le news di una roba nella Svizzera italiana fa molto strano perché comunque è a Lugano a Lugano parlano in italiano non è la Svizzera cioè gli svizzeri non è che se vai nel canton ticino parlano in italiano non è che parlano francese, tedesco, latino e italiano parlano italiano poi non si sentono assolutamente italiani ovviamente però la lingua quella è però mi ha fatto morire il fatto che io non me ne sono nemmeno accorto non lo so fare l'accento luganese Svizzero? che a Lugano parla devo leggerlo come Uber salve comprendiamo ma dato che molti ospiti e visitatori parlano altre lingue ed essendo un festival perciò internazionale per questa edizione abbiamo oggettato le nostre risorse su interpreti e traduttori simultanei so che questa cosa poteva lasciarvi offesi alle orecchie ma per la prossima edizione prenderemo più gervasoni e vabbè ma era sempre Svizzeri no? sembra più Bergamo però parlano così gli Svizzeri di Aldo Giovanni e Giacomo così erano io gli Svizzeri non li so fare era l'imitazione di Aldo Giovanni e Giacomo non di uno Svizzero reale un po' il ticinese è simile al Bergamo non lo so non va in Svizzera molto spesso sì comunque raga sta lì non è che cioè il Ticino sta sopra Como non è che più o meno mi volete che parli in che mondo siamo è un mondo terribile un mondo terribile però io non me ne sono neanche accorto sono così abituato a leggere in inglese che non ci ho neanche fatto caso che svegliere non ci ho saputo la reaction così mi dirò mi bucano il video ah no ma minchia questo è quello di Aldo Giovanni e Giacomo ufficiale mi bucano sicuramente il video vabbè è un pezzettino c'è un pezzo in cui c'è Aldo scusate ma cos'è ma perché e chi è? immaginate lo sento a croce fisso è Gerva ma che abbia travestimento ma stava mettendosi a ridere stava mettendosi a ridere persino lui non ce la poteva fare potevo rimanere offeso alla carotide comunque sì vabbè Siramus questo è un discorso molto molto complesso in Italia nel senso che cioè io lo ribadisco gli adolescenti italiani fanno inglese dalle elementari e non riescono a leggere le scan le versioni originali di manga plus in inglese cioè mi spieghi come è possibile come cazzo è possibile io a sto punto mi chiedo qual è il livello dell'inglese che fanno cioè nel senso ma io non l'ho fatto io Shevar l'ho fatto inglese dal liceo dal liceo ho fatto inglese e lo capisco scritto poi ammetto che parlato è difficile che riesci a essere bravo se non fai qualcosa in più però leggere un manga da manga plus minchia parlato io faccio cagare io non lo so parlare lo capisco poco un po' sì dopo anni che guardo cose in inglese però non sono bravo cioè non guarderei un film in inglese senza sottotitoli ecco se posso farne a meno però però allora i video youtube in inglese li capisco in genere quando più o meno so l'argomento magari non colgo parola per parola ma li capisco cosa sono le medie cosa no alle medie Davia non è vero alle elementari lo fanno in inglese scusami in generale da quando non fanno più in inglese alle elementari una volta era le medie picpac confermi scusami è normale farlo alle elementari vabbè all'asilo ok gli asili però non sono non fanno parte della scuola dell'obbligo però effettivamente Dario non è in Italia è al sud è al sud alla materna però è sempre una roba un po' penso sia abbastanza a seconda ma io gli elementari alle medie io ho fatto francese ma come la stessa maestra per italiano storia inglese arte e geografia cioè italiano storia arte e geografia ci sta inglese no non ci sta che merda ma perché non possiamo essere un paese serio c'è no io facevo all'elementare da me non c'era ovviamente all'elementare avevo due maestre io ai tempi avevamo la maestra che faceva le materie scientifiche e quella che faceva le materie umanistiche così a memoria la signora Luconi credo era quella non mi ricordo più il nome della mia maestra che tristezza Turri la maestra Turri la maestra Turri la signora Turri sì 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 che era quella buona cioè la signora Luconi era crudele e malvagio eh perché siamo europei siamo delle merda sì però in Italia siamo messi particolarmente male le elezioni sono interattive wow che bello comunque andiamo tutti in Nova Comics facciamo un tour di gruppo a lì in quel posto lì come si chiama Lugano tutti a Lugano ho messo anche il follow c'è Laura Zuccheri che ha lavorato Giulia c'è Silvia Ziche c'è Palloni c'è Samira Latour non so chi sia c'è Raffaele Conte Francesca Proto Francesca Proto Papa non c'è niente a me c'è Dottor Pira se volete c'è Illegao Bruno Bozzetto c'è un po' poco fumetto anglo fumetto diciamo and more to come comunque and more to come no non sto seguendo i reportaggi di Zero Calcare dal Comic Con non guardo i comunisti c'è anche Raffaele Cutolo eh Raffaele Conte non è Raffaele Cutolo Manuel ma che cazzo ne so cioè dipende da cosa voglio di leggere sinceramente Hitman però me lo ricordo poco Hitman è un po' più seminale secondo me trovi un po' più Lennis che sperimentava The Boys è più Lennis che ormai ha già fatto tutto e quindi si diverte però anche lì dipende insomma Sara Stefanini Sara Guerra ma soprattutto c'è Anthony Neos Chef Water beh oddio anche in The Boys trovi un po' i personaggi Marco Rizzo quello del PC no non è Marco Rizzo del PC però sarebbe bello che hanno sbagliato e per errore invece di invitare Marco Rizzo giornalista dei fumetti invitano Marco Rizzo del Partito Comunista pensate che bello a un certo punto inizia questo panel con Marco Rizzo sugli X-Men e Bo e sale Marco Rizzo del Partito Comunista si guardano un po' stranami lui si guarda straniti loro si guardano straniti e poi cominciano a parlare degli X-Men e scopriamo che Marco Rizzo è un grande fan degli X-Men quale Marco Rizzo quello del Partito Comunista si è arrivato da un'altra buonasera Windard poi c'è Frezzato cioè poi ragazzi soprattutto c'è lui l'immancabile l'ineluttabile no comunque vedete è Marco Rizzo lui l'ineluttabile l'ineffabile Lorenzo Palloni quindi non lo beccherete solo nelle live di cui del malvagio Frecht ma anche qui un Lorenzo Palloni selvatico allo stato Brad e poi c'è Utah chi è Utah Reynard Cleis scusate no avete rotto il disegno non si fa ragazzi allora io lo continuo a dire a chi si occupa di queste stranzate se fate i disegni a tre poi dovete postare tre poste alla volta perché sennò sputtanate il disegno e non si fa non si fa dovete imparare a farle ste cose se volete fare questa cosa finché questa cosa è ancora importante e in questo caso lo è devi postare tre foto alla volta piuttosto ne sposti tre vuote e poi la cancelli ma sennò non si fa così non si fa è fastidio fastidissimo c'è Scialpi non credo ci sia Scialpi non ci fa Scialpi è ancora vivo Scialpi sì sì è quello dei Sacchi vedi lui è Utah è l'autore di Gatto Pernucci che devo ancora finire di leggere molto particolare devo finire di leggerlo tu ci andrà in Nova Comics non lo so sì me l'hanno regalato Gatto Pernucci però non ho finito di leggerlo perché sono una merda occhio mi sembra un flop alla Coconino no è una cosa molto particolare certo un'idea bizzarra quella di Gatto Pernucci però è una cosa molto particolare non mi stava dispiacendo non è molto il mio genere di fumetto però ci stava strambo poi devo fare qualcosa con questa cosa vabbè ti puoi averla di questa dimensione e tenerla così anche un pochino più su perché vorrei avere tutta la che il campo il problema è che i siti poi non sono tutti così e che sono a tutto coso non so boh che fastidio vabbè ci devo lavorare quali sono le date a metà ottobre dall'11 al 13 ottobre fra l'altro vi annuncio che potrei essere una fiera a metà settembre qui nei dintorni però però non ci sono ancora news fisse vi dico di più quando ne so di più si tiravano fino al 15 ci andavo si tiravano fino al 15 ma penso sia il weekend no San Marino no non San Marino ho detto nei dintorni ti sembra nei dintorni San Marino ah poi partiva il Giappone ok e cos'è ottobre sarebbe questa dall'11 venerdì sabato domenica classica raga non state a indovinare non ve lo posso dire comunque ho detto nei dintorni molto più nei dintorni e comunque non è una fiera famosa è una roba è un progetto vediamo dove a Treviso ma mica Treviso ma è lontana Treviso cos'è Treviso Comics non mi hanno mai invitato nessuno mi invita alle fiere non sono bravo Treviso Comics come se la tirano TCBF Treviso Comic Book Festival 28 e 29 settembre poi mi occupano tutto lo spazio del coso così non ci sta ma che palle potere pelato Comics anche che bello effetto che effetto hai attivato che hai fatto perché uno dovrebbe fare perché uno dovrebbe fare il volontario a una fiera del fumetto ma io non vedo niente PicPak eh cosa devo vedere boh non credo che si veda sul mio coso sai ah ma non li vedo dei beats a schermo cioè più che altro perché mi apparirebbe se doni dei beats ah no sì c'erano ma non mi suona perché non suona oh perché non è non li piglia coso e quindi non fa dei suoni cioè adesso le vedo qua le notifiche però non non suonano vabbè niente secondo me è morto Manuel perché è morto Manuel sì questa roba qua è di una tristezza impressionante ragazzi ma i volontari per una fiera del fumetto cioè è una cazzo di fiera del fumetto ah beh se ne è andato da un sacco non gliene frega più un cazzo dei fumetti a cambia come sempre succede con gli adolescenti io ve l'ho già detto sì raga ma dipende appunto capiamoci cioè se parliamo della sagra di paese io lo posso capire ma una fiera in cui ti servono le robe in cui hai gli ospiti e le cose non inviti l'ospitone e paghi la gente che ci lavora no leggeva mister no a 14 anni non ha conosciuto la f su siamo seri dai ecco tutto l'affetto per Manuel tra l'altro non c'è nessuna informazione news ah instagram ok ma non ci però madonna non manca così tanto eh non deve essere una gran fiera posso dirlo forse ci sta che hanno che chiedono i che chiedono i che chiedono i che chiedono i cosi si in realtà le fiere piccole hanno i soldi perché generalmente sono pagate dai comuni a differenza di quelle grosse che no e quindi il gatto ne parlava beh il gatto che cazzo ne sa di fiera del fumetto il gatto sul tubo adesso con tutto l'affetto per il gatto eh cuoricioni per il gatto sul tubo no però ribadisco se non c'è nessuno c'è il call volontari questa è una roba di luglio già quando fanno i contest per le locandine poi le vince c'è gente che fa le robe con l'IA e boh ma poi puoi lanciare il contest sei giorni fa per una roba che deve che inizia boh ah no il festival il contest è capire chi l'ha fatto wow va bene cos'è questa cosa sono prontissimi sono prontissimi tu hai delle cose di oblomo poca roba di oblomo ho le robe di non mi ricordo cosa però no non ho molto di oblomo e quelli e quelli i giapponesi era oblomo o quelli credo di non avere altri ma magari qualcosina ce l'ho qua e là però non so poca roba affermo comics e uno scorso c'era l'uomo l'uomo gatto pensavo il gatto sul tubo invece non era l'uomo gatto minchia beh è tipico personaggio dei comics poi l'uomo gatto cioè minchia l'uomo gatto sarà banda famoso fumetto quella famosa trasmissione in cui riconoscevano i fumetti guardando una micro a proposito di ragazzi mi togliete una cosa adesso io lo sapete che non voglio fare lo stronzo non voglio litigare con gli amici questa non sarà una reaction guardiamo la live ristrimiamo la live di cosa di di Rick Dufer no Rosic Dufer scusatemi ma adesso tolgo l'audio come sempre questo video del buon Luca DJ mi spiegate perché si mette a guardare con una sorta di non è un microscopio ma è un un robo che fa gli ingrandimenti le tavole del fumetto a parte che ce glielo dice anche la gente che deve piantarla con i titoli clickbait perché veramente non puoi fare queste cose cioè questa roba qua è questa roba qua si ho capito no ma è questa roba qua non ha senso per non puoi mettere questi titoli ragazzi che cazzo di titolo è nel senso se poi Bonelli si incazza io non mi stupirei nel senso non puoi mettere nel che dire nel che nel titolo fa schifo e poi non è vero non vuol dire un cazzo che c'è l'emotico non lo fai il titolo così boh sinceramente non è professionale fare sta roba ma poi mi spiegate sta cosa cioè cosa sta facendo cioè cosa sta facendo che per carità può essere anche interessante l'idea di guardare come viene qual è l'effetto della carta con una grossa ingrandimento ma mi spiegate questo paragone che senso ha cioè cosa sta facendo ribadisco qual è il punto Luca dimmi qual è il punto non lo capisco cioè che giudizio puoi dare guardando il fumetto ingrandito che per carità è ribadisco è una cosa interessante a livello proprio cioè puoi fare un video del tipo guardate com'è particolare guardare i fumetti con l'ingrandimento a 50x che figa l'idea ma qual è il senso di fare questo confronto anche le lettere ma cosa me ne frega quanto sono sfocate a 50x o quello che è ma che senso ha ha cioè è che ieri ho visto stavamente ma che cazzo sto facendo ma ho capito ma facci un video bello Siramus non 20 minuti in cui dici io non so come fa la gente a guardarli i certi video di Luca perché io 20 minuti di guardiamo quali sono come sono meglio i colori di questo albo non mi parlare di tiktok Dario grazie tiktok è la merda poi è bella l'idea è carina è un oggetto simpatico non mi mette come comprarlo su amazon glielo compro se costa poco no non c'è vedi gli errori su errori su errori l'unica cosa interessante di questo video era comparsi il microcoso come sono le live al microscopio in che senso Dario cos'è una live al microscopio perdonami in che senso eh cioè guarda le cose al microscopio in live figo o è lui microscopico e nelle live è in un microcosco fascinante comunque diciamo basta Luca DJ blocchiamo Luca DJ non è esattamente un microscopio elettronico però la live semantica io vorrei farlo a sfufu mi piacerebbe tanto fare un video sullo stato del della continent creation fumetto in Italia sarebbe molto bello in cui fai notare tutte queste cose fai notare quanto chi fa i numeri non parla di fumetti e quindi sono quelli che poi vengono chiamati dagli editori sono quelli che su tiktok invece di parlare di fumetto fanno i filtri con le gare con i personaggi manga e poi che quelli che ricevono i fumetti non li aprono nemmeno e fanno vedere le cose e la gente che ha i follower falsi evidentemente e nonostante questo riceve dagli editori materiale e gli editori li trattano come se fossero dei creator veri quando sono assolutamente fake ma totalmente fake e sarebbe tanto bello poi senza mettere nomi perché ad esempio ti basta prendere l'esempio senza far vedere i video delle persone metti semplicemente metti le robe in cui non si capisce chi è cancelli il nome fai vedere numero di follower numero di reazioni ai reel e poi vai su coso social blade e fai vedere i picchi e i crolli di quando cancellano i bot e tu dici ma minchia e questa gente qua è gente che riceve pacchi di materiale dagli editori e non solo da un editore da tanti editori perché purtroppo in italia tanti editori non vanno nemmeno a controllare a chi sono le persone a cui mandano le cose e questa cosa è imbarazzante è davvero imbarazzante così come è imbarazzante il mondo di tiktok dove tu vedi gente che magari ha centomila follower e poi i suoi reel una volta che è passato il momento i suoi reel in cui parlano del fumetto magari fa duecento views e tu dici ma scusami li faccio anch'io duecento views senza avere centomila follower e Cheval ma no non è vera ni ni perché ad alcuni di questi non mandano un libro no non funziona così che va purtroppo magari funzionasse così ma non funziona così tra l'altro è una roba questa che andrebbe fatta molto bene facendo le foto e oscurandole in modo che se poi le persone che ovviamente si rendono conto di essere loro ti rispondono si auto mettono in coso perché tu non fai capire chi è lo rendi impossibile capire chi è la persona se non quella persona stessa che sa che sono i suoi numeri e sono tutti numeri ufficiali e sono tutti numeri pubblici cioè non è che tu vai a prendere e tu non devi ovviamente non devi nemmeno dire se il video lo fai bene non dici questa persona ha evidentemente comprato dei bot dici questi numeri sono evidentemente assurdi war without end dan piedi e james delano sarebbe da prendere e non lo so dici è un'affermazione può essere non è che posso comprare tutto il solito discorso non posso comprare tutto comunque c'è c'è Luca che si muove ancora sul mio monitor mi fa paura ciao Luca ti chiudo comunque Luca è molto bravo Luca mi fa schifo quello che fa lo trovo insopportabile perché trovo che non sia il modo di fare video però è bravo funziona cioè non mi piacciono i suoi video una volta sì Luca dj una volta mi piacciono all'inizio quando era un po' più generale ci stava oggi no beh ma scusatemi il fatto che abbia anche mandato in onda una intervista a zero calcare che non l'ha fatto lui scusami fammi capire questa cosa va bene grazie a tutti Spari sulla croce rossa? Sparo nel mucchio Vabbè Sì, no, spari sulla sua croce rossa Cheval, cioè, dai Ma bravo, su Mi sembra di star lì E dover attaccare Faber Adesso, con tutto l'affetto per Faber Quando mi hanno fatto vedere Quando diventa Super Saiyan Ho perso un po' speranza nell'umanità Però ciao Faber, se mi segui ancora Però Comunque Non c'è qualche news interessante C'è una tizia in costume, non so perché Con le papere Cerchiamo le action figure delle waifu Magari Più che altro Stavo guardando se c'era qualche news interessante Se volete c'è Emma al mare vestito da namici Comunque anche in Francia hanno la loro go Neve graphics Non pervenuti per 3-4 mesi Ottimo Guarda che belline Ma io mi ha fatto morire Kirio quando si è messo a fare le dichiarazioni Sul coso di Arama Io sto zitto Ah Instagram di Planet, è vero? Avevi detto che c'era qualcosa Un'altra roba del tipo Su manga Aspettate le nuove Queste fissate Sembrano cose interessantissime Allora abbiamo Il nuovo geniale Vabbè questo si Il nuovo geniale in manga di Inyo Asano Ok Però siamo al contrario Aspettate Bisogna partire da qua Allora Tre annunci Il primo è un thriller avvincente Su come il destino Giochi strani scherzi Madonna che copertina orribile È un webtoon Vero? Avvincente il thriller Che ha spiegato un key drama Da non perdere Vabbè questa è una merda Si vede lontano Ah no non lo vedete Scusatemi Ora lo vedete Ma chi fa i ril a petto nudo? Ha i ril a petto nudo? Ah Kirio? Boh perché ha caldo credo Questo è chiaramente Un orripilante Webtoon coreano Di quelli inguardabili Che ha fatto incredibili numeri Dove lo leggevano gratis Poi magari è carino È il drama Ma là Il coso deve essere Vediamo se c'è qualche immagine Non si trovano immagini Eh non c'è su team Non c'è su click Che su cosa Vabbè classico webtoon coreano Full core webtoon man Ma è uscito anche in inglese Ma Boh Not interested in Poi Abbiamo star wars Rebels omnibus In un unico volume L'adattamento manga Della prima stagione Della prima serie animata Targata disney plus Oddio Magari l'adattamento manga È carino Ma non è mai uscito O è uscito Oddio Non è interessante È una minchiata Non è interessante Direbbe se avevo Il primo volume Ma sì Guardo Aspettate Facciamo così Ah sì forse sì E quindi torna Non è arriva Ah sì è vero Ah sì sì Me lo ricordo È vero È vero Non avevo continuato Tra l'altro è disponibile Ma che cazzo te lo fa fa Di comparti la versione Omnibus Ora Bisogna vedere Che edizione Omnibus è Perché Panini Con le edizioni Omnibus Dei manga Può voler dire O un volume unico In formato un pochino Più grande O quello cartonato Che costa 40 euro Immagino sarà Semplicemente Una versione Un po' più grande Però che senso Ha sta roba Che cazzo serve Cioè Per mandarla in libreria O Sono tutti disponibili Tranne questo Che non so cosa fosse Una roba del 2010 Ah no ma è la rivista Tipo No non è vero Comunque sono tutti disponibili Se uno proprio vuole leggerseli Se li compra E fa prima Mi piace Perché vi ricordate più di me Le cose che compro È notevole L'ho anche letto questo Mi ricordo C'è la cacà E Grande la news Effettivamente È una news Della madonna E poi Vabbè Nuo manga di New Asano Questo sì Ottimo acquisto Grazie al cazzo Chi deve pubblicarlo Li hanno pubblicati tutti loro Nel senso Cioè Uno si stupisce Pubblicato Sì ok Ma quando Cioè Ormai pubblicano tutto loro Di New Asano Da vent'anni Sì Sì beh La K Magazine Era Star Comics Ma sì Ma anch'io Lo piglio Ovviamente Però Cioè Questa è interessante Le altre due Però Non è neanche Questo annuncio Incredibilmente Boh Tanto saremo Cioè Non so in Giappone Quanti numeri sono usciti Ma Vediamo Sono usciti Due volumi Ne esce uno all'anno Da 2023 Ne sono usciti due Ciao Esce il primo Poi fanno uscire il secondo Dopo un po' Che poi si erano viste le immagini Sì un anno fa Me lo ricordo Però Non esce È molto figo Visivamente Vediamo Vediamo Però No ma io li piglio sempre in corso Ovviamente Però Alla fine non è certo uno di quegli annunci Che dici Che dici Oh mio dio Non me l'aspettavo Panini che pubblica Il nuovo manga di Inyo Asano Come tutti gli altri Manga di Inyo Asano È solo Quando lo pubblicano Però c'è questa copertina Incredibile L'avete comprata Spero La versione variant È fantastica Vero Guardate È in pvc Che brutta sotto Ma speravo non ci fossero le immagini di loro sotto Vabbè Boh Sempre molto corretti Aumentare il prezzo Da 7,50 A 9,90 Non comprarlo Nella mia fumetteria È arrivata solo la variant Non ho potuto comprare Il secondo fumetto Versione regular Cambia fumetteria Sì ma ragazzi È ovvio che era un errore Cioè questa gente qua Che non si rende nemmeno conto Di quello di cui parla Ma secondo te Possono farti pagare La versione Con la cover In pvc 50 centesimi Sì Asfufu Ma non è che Le fumetterie Allora Le fumetterie normali Non è che Non che aspettano L'ordine di ogni cosa Cioè una fumetteria normale Le cose le ordina Appunto Non è che fa solo i pre-order La mia fumetteria La mia fumetteria Ah ok Qual era la domanda? Non vedo la domanda Amazon figliolo Eh? Ah ok Su ok Sì Eh no Su Amazon Probabilmente non la trovi Però su Manga Yosi Eh ma panini Io questa roba di panini Del direct La posso capire Su certe cose Sui Manga No Sui Manga Veramente Io non riesco A comprenderlo Eh no Mangabu è morto Non funziona più È inutile che mettete Ma non l'avevo editato? È scaduto il dominio Vedete Non c'è più il dominio Ma qualcuno se l'ha comprato Ma non ci credo Ma veramente Ma è bellissima Questa cosa Ma com'è possibile? Cioè è scaduto Tipo da qualche giorno Ma non lo volevo rinnovare Ma mi fa super morire Cioè c'è qualcuno Che compra i domini Che scadono Per cercare di Boh Che tiene tipo d'occhio I domini che scadono Ma voglio dire Ma non ci clicco Non mi fido molto A cercare A cliccare Sui link Però Basta Luca L'avrei fatta Ma anche Buono Ma adesso Voi panini Dare che mi Mi preoccupano Esistono da 30 anni 20 20 Devevo proporre a Luca Di comprare il mio dominio Non ho capito Va bene Ma io l'ho fatto scadere Perché volevo farlo scadere Cioè Però Cioè È un bot Che funziona anche bene Cioè nel senso Ha anche creato dei link Collegati ai manga Cioè Per carità C'è manga nel titolo Per carità È vero Però fa ridere questa cosa Poi c'è un bot Che controlla le scadenze Di tutti i domini Che scadono Cioè non è un Dominio famoso Importante Cioè È manga bo Tra l'altro Devo cambiare Il link Nel Nel messaggio Aspettemelo fare Va Allora faccio di qua No Penso siamo bot Anzi no Lo disabilito E basta Dai che se ne frega Custom command Manga bo Off Anzi lo cancello proprio Ok Eh sì Manga ma Potrebbe tornare No Cancellato 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 Però Che vale Se ti manca Esiste Esisterà sempre Guarda Credo sia Mangabo Credo eh Punto Pelati e fumetti Punto it Credo Vediamo Sì Guarda Salvatelo Nei preferiti E' sempre qua Puoi guardarlo Tutte le volte che vuoi Guarda E' sempre lì Perché non avevo Comprato L'hosting Ovviamente Avevo creato Un sottodominio Su pelati e fumetti Era semplicemente Un redirect Da quel dominio lì A questo A questo indirizzo qua Eh Mangabo Mangabo Ne 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 Può sempre usare eh Se volete Qualcuno vuole usarlo Lo propongo a Mattia Faccio un redirect A Mattia Da qua Ci metto un link Che Se ci clicchi Ti finisci su Cazzo Posso farlo davvero Lo faccio No basta Basta che trasformo Questa immagine Che tanto Non so se è un'immagine O una pagina html Questa Non ho idea No è una pagina html Basta metterci un link Che non mi ricordo Assolutamente come si fa Ma Basta metterci un link Che se ci clicchi Finisce su 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 Coso Su Kikoshop Ma non puoi creare un link Dall'immagine? Sì Lo sto dicendo Non mi ricordo come si fa Ma posso farlo Cioè Basta metterci Il redirect Sì Sì lo so Devo stare lì A modificare Non mi ricordo Nemmeno dove l'ho caricato Non mi ricordo Nemmeno come ci accedo Allo spazio web Però sì Posso farlo Sì ma non è che Ragazzi non è che ho detto Se voglio farlo Però Non lo posso fare Perché È impossibile Il codice html È impossibilissimo Trovarlo Perché probabilmente Non legge Se no Il problema sono i tag Che ha messo Cioè Mettendo le freccettine Lui non te le riporta Non è che è impazzita la chat Funzione È che Probabilmente la chat di Google Non legge le targhettine Se non legge le È indicato Vabbè Comunque Vedo Che continua a spammare I miei cosi Ma tanto Non li usa nessuno Ma quello Sai che lo fa da solo Mubot Comunque ogni tanto Cioè Non serve che lo fai Di continuo Credo Cioè Fallo Se ti diverte In base Li sponsorizza Da solo Nessuno Sapete che Nessuno Ha usato Fantasia Store Cioè Nessuno Ha comprato Niente Su Fantasia Store Credo che Mi odino Terribilmente Perché Non c'è stato Un singolo Acquisto Certo Luglio Non è proprio Il mese ideale Io magari Ho aspettato Settembre Per mandarmi le cose Poi io sicuramente A settembre Faccio magari Un po' Un videettino Qualcosa Però Sarebbe bellissimo Dario Lo so Però La mia faccia No Ci vorrebbe La mia faccia Disegnata E Ni Cheval Perché Il problema È che Fantasia Store Sui fumetti Non ha tutto E poi C'è l'altro Problema È che Se tu ti compri Un manga Conviene Amazon C'è È ovvio Che se compri Un manga Ti conviene Amazon Tra l'altro Ho visto Che Madonna Hanno ordinato Una roba Su Amazon E è arrivata Sfondata Me l'ha fatta Vedere Uno sul gruppo Sub Minchia Ma zero Proprio zero No no ma è quello Il fatto è che luglio Non è il mese ideale Cioè Settembre Natale Natale Magari qualcuno Fa regali Robbe Ci sta Settembre È proprio un mese Un po' del minchia Cioè luglio È un mese È un mese morto La gente sta pensando Alle vacanze E il problema È che purtroppo Fantasia Store È molto di nicchia Cioè nel senso È molto Carte collezionabili Gioco di ruolo Gioco in scatola Poi c'è un po' di fumetti Sì Un po' di manga Ci sono Perché effettivamente Se non vuoi comparsi Manga ci sono E E i brand Non volete Qualcosa Di player inside O di Cracoa Mist La sedia A due gambe Poldo No i Gunpla Non ce li ha Avesse i Gunpla Ci stava È che di Gunpla Non è un cazzo Credo Gundam No Vengono solo fuori In manga di Evangelion Non so perché E quindi Insomma È difficile Far partire Roba Da qua Sono le cose Di Harry Potter Però Le borracce Di Harry Potter Ciao Linea rossa Potere pelato Siete live Su pelati e fumetti Live Ehi Comunque Acquistate i vostri prodotti nerd Su Fantasia Store E ringraziamo Volta che mi spoiler Dalle uscite J-pop Se volete Record of Ragnarok Però c'è tutto Su Fantasia Store No non c'è l'uno No si c'è l'uno Non c'è il 19 Ci sarà Sido No perché è Panini Ovviamente Maledetta Panini Perché se cerco Sido Mi appare Bidoof Strano Vabbè C'era il pop Di Optimus Prime Che era molto carino Ho provato a mandarlo Sul gruppo delle offerte Non è interessato Un cazzo a nessuno E che tipo Ci sono il modellismo Ma è tutto Warhammer Io Warhammer Non lo seguo Non saprei nemmeno Cosa consigliare Cioè questo è il problema Boh Vabbè Oh cazzi loro L'hanno scelto loro Me l'hanno proposto loro Io mi sono adattato E ho provato a rilanciare Se poi la gente Non partecipa Non è colpa mia Una volta ero più apprezzato Ormai sono Un Continent Creator In declino Comunque A proposito di declino Stacco E Da chi vi mando Mi è dato un messaggio di Fastware Che ha preso in carico La mia segnalazione Non so quale sia La mia segnalazione Dopo guardo Sulla pagina di Fastware Vabbè Da chi vi vai Vi mando da Mansi Vi mando da Mansi No vi mando da Mansi Che ci ha fatto la ride L'altra volta A me noi rifacciamo la ride E dai Ci vediamo Domani da Kirio Alle 4 E poi vediamo Ciao 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 Ciao